L'impatto ambientale umano è determinato da diversi driver e quindi capire quali sono i principali driver dell'impatto ambientale è necessario per sviluppare le adeguate politiche, ma è molto importante anche capire che tutto in un approccio storico è frutto di scelte umane e in quanto scelte umane possono essere modificate, quindi nulla è determinato, spesso si parla di leggi, ma in effetti non sono leggi, sono convenzioni umane e in quanto convenzioni possono essere modificate, quindi penso che capire l'impatto ambientale in un approccio storico sia fondamentale per poter proporre le adeguate politiche di soluzione dei problemi. Grazie a tutti.